con descrizione descrizione sono le immagini le immagini descrivono almeno dire dove ti trovi dillo dove ti trovi allora siamo sulla passeggiata della Martesana abbiamo superato via Padova e siamo verso Cologno Monzese e abbiamo appena letto una didascalia che parlava di Leonardo da Vinci e del volo del suo dirigibile che si poteva vedere da qui partire dalla Forlanini e parlava delle specie animali che c'erano nel XVII secolo che riempivano questa parte della Martesana che è già denominata Fiume Lambro e parla della flora, della fauna di quello che i milanesi potevano venire ad ammirare e questa praticamente era la fine della passeggiata per chi veniva da Milano e faceva i giri fuori porta come sei brava e beh, sto studiato e questo è un progetto